Siamo qui con Tommaso Orlandini dopo la partita vinta per 4 a 2 con l'Axis Valsa che valsa il passaggio alla semifinale regionale. Tommy siamo tra le prime quattro della regione, è la prima volta che vieni qua ai microfoni, un commento sulla tua stagione e sulla stagione di tutta la squadra. Sono partito parecchio male, ora ho trovato la condizione fisica e oggi nonostante la temperatura siamo riusciti a portare a casa una gran vittoria e finalmente siamo tra le prime quattro della regione. È stata una partita dura, difficile, siamo andati sotto 2 a 1, tutti ci davano per morti, nonostante tutto dalla panchina ci sono entrati i ragazzi che l'hanno cambiata. Sì, siamo riusciti a ribaltare una partita molto difficile che è sotto 2 a 1 con questo caldo, comunque era dura, però siamo contenti e ora ci guardiamo tutti. Grazie Tommy e alla prossima partita per Piccarlo TV.